La data è stata fissata dopo un incontro tra i vertici aziendali tecnici dello Spisa al presenti sindacati. Giovedì 14 giugno riapriranno dopo un mese esatto di stop i cancelli delle acceierie venete di Rivera Francia. Riparte la produzione, ma niente potrà essere come prima. La data di domenica 13 maggio resta impressa nel cuore di tutti. Martedì l'ultimo saluto a Serghiuto d'Italia, l'operaio moldavo morto per le gravi ostioni riportate a causa della bolla di calore sviluppatasi dalla siviera bollente carica di acciaio fuso che si è sganciata. Lotta ancora tra la vita e la morte al centro grandi ostioni di Padova e il suo collega Marian Bratu. Resta ricoverato a Verona anche Davide Di Natale. Quattro i feriti. Sulle cause continuano intanto le indagini della magistratura che dovranno stabilire cosa sia andato storto all'alba di quella terribile domenica.